Lo spettacolo è una visita teatralizzata in musica qui all'interno del Parco archeologico di Uplonti. Lo spettacolo vuole raccontare la storia dei personaggi che hanno vissuto questa villa. Forse non solo quelli che hanno vissuto questa villa ma anche quelli che abbiamo un po' immaginato nella storia che raccontiamo attraverso il supporto della moderna tecnologia, nello specifico di QR Code. La storia racconta una guida virtuale che cerca di raccontare la storia di questa villa ma non riesce a causa di un blackout, di una sorta di cortocircuito e di difficoltà che questa moderna tecnologia ha, non riesce a raccontare la storia della villa e si materializzano i personaggi, i personaggi da Poppea a Secondo, lo schiavo di Poppea e raccontano in punta di piedi una storia in musica perché questo spettacolo prevede non soltanto attori ma anche musicisti che suonano dal vivo con un corpo di ballo. Raccontiamo la storia di questa villa con il supporto della moderna tecnologia con grande rispetto per il luogo. È rivolto principalmente diciamo a una fascia d'età che è molto molto vasta perché è adatto non solo agli adulti ma è anche adatto ai giovani.